Ecco nelle prime azioni un servizio di Longoni a Riva che manda fuori e successivamente uno cambio fra Riva e Rizzo con ritorno della palla a Riva che sbaglia ancora il bersaglio. Le polveri della prestigiosa alla sinistra cagliaritana sono oggi evidentemente bagnate, sbaglierà anche sul servizio di creati. I bianconeri di Eliberto milano evidentemente la spartizione dei punti e raramente li vediamo all'attacco come in quest'azione che si conclude con un tiro di cinesigno neutralizzato da Vescovi. Nella ripresa il gioco aumenta di tono ma non farà vedere granchieri di meglio. Ecco un'incursione del Cagliari in area Juventina, scambio Boninsegna Riva Boninsegna e Castano passa l'indietro per alleggerire un pallone che per poco non procura una torrette. Immediatamente dopo sarà Reginato a salvare la rete dei locali con un'autentica prudezza sui piedi di sacco. I Cagliari continuano ad attaccare. Ecco una triangolazione ad iniziativa di Vescovi su Boninsegna e su Rizzo che manderà fuori alto ed ecco un altro impegno di Riva su Cela e Rizzo che manda ancora oltre la traversa. Boninsegna e compagni insistono all'attacco ma la difesa della Juve è imperforabile. Nel maggior fortuna i rosso-blu hanno sui tiri piazzati come in questo battuto da Lunetta da Riva che manda il pallone alla ambito remontante alla destra di Anzolini. Sul finire i bianconeri tentano l'azione. Leoncini e Zigoni e Leoncini con tiro di quest'ultimo fuori bersaglio. Su questo calcio d'angolo si chiudono le ostilità.